Non c'è più niente da prendere qui. Andiamo a cercare Friedman. Deve essere nel suo ufficio. Stan, che ci fai qui? Oh, niente. Correggo i miei appunti. Se vuoi faccio anche i tuoi per 50 dollari. Finiscila, non è il caso. E tu? Cosa fai qui? Qualcosa non va? Cosa? Ma non hai visto? Nei corridoi, tutti quei mostri a spasso. È un inferno! Ehi, non so cosa hai fumato, ma devi darci un taglio. Ma non dirmi che non hai visto niente. Non hai notato niente di strano. Tutto in questa scuola è strano. E per te questi cosa sono? Non sto scherzando, Kenny non si trova. Cosa? Mi prendi in giro? Anche il professor Walden è ferito. È dovuto andare in infermeria. Siamo bloccati qui. Bisogna avvertire Friedman se vogliamo uscire da questa scuola. Wow, la tua storia si fa interessante. Ok, ti seguo, ma spero che non siano tutte balle. Non vuoi che venga con te? So che c'è ancora qualcosa. C'è qualcosa da forzare nell'angolo. Ho preso tre bicchieri di carta. Dovrebbero bastare. Non c'è più niente da prendere qui. Dovrebbero bastare. Dovrebbero bastare. Non c'è ancora qualcosa di più niente da prendere qui. Non c'è ancora qualcosa di più niente. Ci attacchiamo. Poi, non c'è ancora qualcosa di più niente. Sì! Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Wow! Una pistola! Non si scherza più! Sì! Non c'è più niente qui. Da qualche parte c'è una serratura da forzare. Ma qui non si vede niente. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente qui. Carca puttana! Dobbiamo trovare un'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Piantala! Sei impazzito! So che c'è ancora qualcosa. Non c'è niente da scassinare qui. H2SO4. Acido solforico. Devo stare attento a non bruciarmi. Presto, il bicchiere si consuma. Non ci sono altre serrature. Non ci sono altre serrature. Funziona! Non c'è più niente da prendere qui. Ma cos'è tutto questo casino? Sì, è ridicolo. Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Oggi. 17 e 38. Pronto? Signora Smith, sono Miss Wixon. Può dire al signor Friedman di venire da me appena può? È molto urgente. Non posso lasciare l'infermeria. Gli dica di venire subito. Grazie. Oggi. 18 e 50. Herbert, se... Se ci sei, rispondi per favore. Vieni subito. Io... Io non so cosa stia succedendo. Ma credo che abbia a che fare con gli esperimenti. Ho visto diversi allievi. Insomma... È una cosa seria. Vieni prima che puoi. Oh no! Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Signor Friedman! È lì! È lì! È lì! C'è ancora qualcosa da fare qui. C'è ancora qualcosa da fare qui. Oh no! simplement a fara di vettori. Oh no! Oh no! Oh no! Non ci sono più Non c'è più niente da prendere qui Ok, è registrato C'è ancora qualcosa da fare qui Non c'è più niente da prendere qui Non c'è più niente da prendere qui Non c'è più niente da prendere qui Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere Se ci fosse Shannon mi direbbe cosa fare C'è ancora qualcosa da fare qui C'è ancora qualcosa da fare qui Non c'è niente da scassinare qui Non c'è niente da scassinare qui Non c'è più niente da prendere qui Non c'è più niente da prendere qui Non c'è più niente da prendere qui Non c'è più niente da trovare qui Non c'è più niente da trovare qui non ci sono più serrature non ci sono più Grazie a tutti. 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 Funziona! Fridman è in biblioteca. Andiamo! Grazie a tutti. Non ci sono altre serrature. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Grazie a tutti. È inutile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Grazie a tutti. C'è ancora qualcosa da fare qui. Non ci sono più serrature. Funziona. Funziona! Non ci sono più... 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 Non c'è più niente da prendere qui. Grazie a tutti. C'è ancora qualcosa da fare. Usa la luce! Usa la luce! Usa la luce! Usa la luce! Non ci sono altre serrature. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente, non c'è più niente, non c'è più niente. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Ora sono ok. Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da scassinare qui. C'è ancora qualcosa da fare qui. Non ci sono altre serrature. Non c'è più niente da scassinare. Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Non c'è niente da scassinare qui. Non c'è più niente da prendere qui. Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. Non ci sono altre serrature. Non c'è più niente da prendere qui. So che c'è ancora qualcosa. Signor preside, il liceo è... Cosa fate ancora qui? Via a casa! Ma signore, ci sono delle bestie feroci! Nei corridoi? Sì, sono anche negli uffici. Bisogna fare qualcosa. Kenny è sparito. Il professor Walden ha già chiamato la polizia, ma... Cosa? Il signor Walden è qui? Ho detto di venire da lei. Andate dal pitello. Vi farà uscire lui. Gli dico che arrivate. E non voglio rivedervi prima di domattina. E le bestie! Me ne occupo io. Andatevene. È la cosa migliore che possiate fare. Grazie a tutti.